ciao, ciao come stai? benvenuto a un nuovo video di ASLL con audio L8T ti acconsiglio di indossare assolutamente le cuffie così puoi sentire il vero effetto dell'audio in 8T e se sei italiano ovviamente ti invito a mettere like, a 3000 like nel prossimo video in italiano lasciami anche qua sotto nei commenti cosa ti piacerebbe vedere in un prossimo video in italiano io oggi ho portato dei suoni speciali per te per farti rilassare sperando che tu possa addormentarti in pochissimo tempo io posso dirti che mi piace un sacco le smerano tutti anche se forse preferisco l'audio 9T anche se forse preferisco l'audio 9T se non lo conosci ancora o non sai di cosa parlo ti invito a cercare nel mio canale ASMR 9T anche se non lo conosci ancora o non so anche il 9T lo devi sentire assolutamente con le cuffie altrimenti l'effetto non lo senti bene oppure sentirei come se fosse una smera normale perciò debì mettermi le confie a te piace il tapping? io ti devo dire che non sono particolarmente infatti il tapping raramente riesco a trovare un oggetto in cui il tapping suona come piace a me ad esempio mi piace un sacco il tapping che suona come pioggia infatti il mio trigger preferito è senza dubbio la pioggia invece qual è tu? invece qual è tu? tu sei team tapping? ma invece appartiene al scratch non hai no no non n Grazie a tutti. A me piacciono un sacco questi oggetti che sono fatti con resiclaggio. Infatti questo era un cocco. E adesso guardate questo bellissimo poe. Un pianto che l'ho morto. È bellissimo. Dovete anche sapere che sono un animalista con tutta l'anima. Grazie a tutti. 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 Ti piacciono i suoni di bocca. Grazie a tutti. Abbiamo un suono. Abbiamo un altro suono che piace tantissimo. e abbiamo un suono. e anche un altro suono devo dire che più che un suono è una parola che evidentemente è molto, come diciamo noi in spagnolo, coschigiosa. e questa parola è un suono è un suono. e questa parola è un suono. 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 E poi abbiamo ovviamente i suoni di bocca ASMR. ad esempio, è un suono. 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 è un suono.